Una vita spezzata, ricordando Chiara Iaconis. Chiara Iaconis, una vibrante trentenne di Padova, ha avuto la sua vita tragicamente interrotta durante una visita a Napoli. Un oggetto in caduta l'ha colpita, provocandole ferite fatali. La sua morte ha lasciato la sua famiglia e la comunità in lutto. Chiara era conosciuta per la sua energia contagiosa e il suo spirito avventuroso. Era ansiosa di esplorare la ricca cultura di Napoli. Amici e familiari la ricordano come una luce brillante e una vera ispirazione. La sua assenza sarà profondamente sentita. Tragedia a Napoli Il tragico incidente Il tragico incidente è avvenuto nei quartieri spagnoli. uno storico quartiere di Napoli noto per le sue strade strette e l'atmosfera vibrante. Chiara stava passeggiando nella zona con il suo fidanzato quando una statuetta di marmo è caduta da un edificio sovrastante, colpendola alla testa. Il pesante oggetto ha causato gravi lesioni e Chiara è stata immediatamente trasportata in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, Chiara è morta a causa delle ferite riportate. La statuetta caduta, del peso di diversi chilogrammi, si è rivelata un colpo fatale. L'incidente ha lasciato la comunità in stato di shock e incredulità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità. I quartieri spagnoli, pur noti per il loro fascino, hanno anche dovuto affrontare sfide legate alla manutenzione e alla sicurezza degli edifici. L'incidente che ha coinvolto Chiara ha evidenziato queste preoccupazioni e ha suscitato distruzioni sulla necessità di migliorare le misure di sicurezza. La tragica natura della morte di Chiara ha lasciato una cicatrice sulla città di Napoli. L'incidente serve da triste monito dei potenziali pericoli che possono nascondersi anche nei luoghi più belli. Svelare la tragedia Le indagini in corso Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare le circostanze che circondano la morte di Chiara. L'attenzione si concentra su come la statuetta di marmo si sia staccata dall'edificio e se la negligenza abbia avuto un ruolo. Gli investigatori stanno esaminando la struttura dell'edificio, interrogando i testimoni e raccogliendo prove per ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragedia. Un'ipotesi suggerisce che la statuetta potrebbe essere stata accidentalmente urtata da una finestra o da un balcone. Un'altra possibilità è che sia stata lanciata deliberatamente, anche se questa sembra meno probabile. L'indagine è cruciale per determinare la responsabilità e prevenire incidenti simili in futuro. L'indagine è in corso e le autorità stanno lavorando diligentemente per scoprire la verità. La famiglia e gli amici di Chiara cercano risposte e giustizia, sperando che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. L'esito dell'indagine non solo porterà conforto ai cari di Chiara, ma servirà anche da catalizzatore per migliorare le norme di sicurezza e prevenire future tragedie nei quartieri spagnoli e non solo. Chiara Iaconis Ritratto di una giovane vita Chiara Iaconis era una giovane donna brillante e ambiziosa con un futuro promettente. Proveniva da Padova, una città del nord Italia nota per la sua ricca storia. Chiara incarnava lo spirito della sua città natale, abbracciando la vita con entusiasmo. Dopo Padova ha studiato economia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha affinato le sue competenze con Master in Moda a Londra, Torino e Parigi. La sua dedizione le ha aperto la strada a una carriera di successo nella moda. Sezione 5 Un viaggio alla moda Il percorso professionale di Chiara La carriera di Chiara è stata caratterizzata dal suo talento, duro lavoro ed edizione. Ha iniziato con stage presso rinomate case di moda, acquisendo esperienza preziosa. La sua passione l'ha portata a posizioni a tempo pieno, scalando rapidamente i ranghi. Ha lavorato per marchi prestigiosi come Montclair, Givenchy, Louboutin e Prada. Il suo lavoro l'ha portata in varie città europee, ampliando i suoi orizzonti. Era nota per le sue idee innovative e la sua meticolosa attenzione ai dettagli. Sezione 6 Oltre la passerella Le passioni e gli interessi di Chiara Oltre alla sua carriera di successo nella moda, Chiara aveva una vita personale ricca e appagante. Era appassionata di vita sana, praticava regolarmente esercizio fisico e seguiva una dieta equilibrata. Credeva nell'importanza di prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, riconoscendo l'importanza di uno stile di vita sano. Chiara aveva anche un profondo apprezzamento per la cultura, in particolare la cultura francese, avendo vissuto e lavorato a Parigi per diversi anni. Si è immersa nell'arte, nella musica e nella cucina della città, abbracciando lo stile di vita parigino. Amava esplorare diverse cucine, provare nuovi ristoranti e sperimentare diversi sapori. Il suo palato avventuroso rifletteva la sua apertura mentale e la sua disponibilità a provare cose nuove. I diversi interessi e le passioni di Chiara l'hanno resa una persona a tutto tondo con una gioia di vivere. Ha vissuto ogni giorno al massimo, cogliendo ogni opportunità per imparare, crescere e sperimentare cose nuove. Sezione 7 Napoli piange Reazioni della comunità e tributi La tragica morte di Chiara Iaconis ha profondamente colpito la comunità di Napoli. Cittadini e turisti hanno espresso il loro shock e il loro dolore porgendo le condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. L'incidente ha scatenato un'ondata di dolore e simpatia in tutta la città. Sul luogo dell'incidente è sorto un memoriale improvvisato adornato con fiori, candele e messaggi di condoglianze. Le persone si sono riunite per rendere omaggio lasciando segni di ricordo e offrendo preghiere silenziose. La grande dimostrazione di sostegno da parte della comunità riflette il senso di perdita condiviso e il desiderio collettivo di onorare la memoria di Chiara. Gli omaggi spontanei dimostrano la compassione e la solidarietà del popolo napoletano. La reazione della comunità alla morte di Chiara evidenzia l'impatto umano di questa tragedia. Serve come promemoria dell'importanza dell'empatia, della compassione e del sostegno nei momenti di dolore e perdita. Sezione 8 Una città sotto shock L'impatto emotivo della morte di Chiara La morte di Chiara ha avuto un profondo impatto emotivo sulla città di Napoli. L'incidente ha scosso la comunità sollevando interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità. La tragica natura della sua scomparsa ha lasciato molti in stato di shock e incredulità. L'incidente ha suscitato discussioni sulla necessità di migliorare le misure di sicurezza nei quartieri spagnoli e in altre zone storiche della città. I residenti e le autorità chiedono maggiore attenzione alla manutenzione degli edifici e alle norme di sicurezza per prevenire tragedie simili. Il peso emotivo della morte di Chiara si estende oltre la comunità immediata. La sua storia ha toccato le corde di persone in tutta Italia e nel mondo suscitando espressioni di simpatia e sostegno. L'incidente serve come triste monito della fragilità della vita e dell'importanza di apprezzare ogni momento. La morte di Chiara ha lasciato un segno indelebile sulla città di Napoli stimolando la riflessione e una rinnovata attenzione alla sicurezza e al benessere della comunità. Sezione 9 Alla ricerca di giustizia La strada da percorrere Mentre le indagini continuano l'attenzione rimane rivolta alla ricerca di giustizia per Chiara e la sua famiglia. Le autorità stanno lavorando diligentemente per raccogliere prove e interrogare i risultati. Grazie